Il motivo importante è questa dell'ottava edizione raccogli, conosce e degusta perché mette al centro lo zafferano, mette al centro la DOP dello zafferano dell'Aquila che raccoglie 13 comuni su quello che è uno dei valori, uno dei prodotti tipici di questo territorio. Credo che sia importante in questo momento ripartire proprio dal territorio e cosa di più importante di quello che è il valore comunicativo che in questo momento ha il cibo, hanno i prodotti tipici per illustrare non solo l'altissima qualità che hanno ma anche e soprattutto per far conoscere e promuovere un territorio, un comune, una zona. Noi dobbiamo ripartire da questi prodotti tipici, costruirci dentro un progetto complessivo che raccolga tutti i comuni, che raccolga l'identità, la storia, la cultura, la tradizione di queste comunità rende le uniche nel promuovere e metterle insieme in un progetto di rete, cioè superare anche quel meccanismo di tutta una serie di singoli produttori, di singoli comuni che fanno attività, ma metterli tutti insieme in sinergia in un grande progetto che poi diventa il progetto di promozione vero dello zafferano e il progetto vero di promozione di questo territorio. Grazie mille. Grazie a te.